La Regione Toscana attende l'intervento salvifico del Governo. Il Presidente Gianni invoca a gran voce i soldi da Draghi per arginare il buco di bilancio apertosi in sanità e che ammonterebbe a 500 milioni di euro. Il condizionale però è d'obbligo secondo Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Ammonta a 500 milioni lo dite voi perché noi viviamo una situazione talmente surreale in cui il Governatore e l'Assessore Bezzini non riescono a dire una parola su questo buco di bilancio. Né a quanto ammonta, né da dove proviene, né di quanto stiamo parlando. All'inizio addirittura Gianni negava l'esistenza del buco di bilancio, ora sarebbe solo colpa del Covid. In realtà non è così. Ci sono alcuni dati che abbiamo trovato guardando quello che è successo negli ultimi mesi che ci fanno vedere che una preoccupazione soprattutto nella ASL Toscana Centro per questo buco di bilancio è antecedente al Covid. La comunicazione dell'Assessore Bezzini è attesa in aula nella seduta del 2 di novembre ma dai banchi dell'opposizione se ne chiede le dimissioni. O ci mettiamo nell'ottica, o Gianni si mette nell'ottica delle idee di nominare un Assessore alla Sanità vero in Regione Toscana in un periodo drammatico come questo, altrimenti di conferenze stampa come queste, di polemiche come quelle che arriveranno dopo il 2 di novembre e continueremo a fare i prossimi 4 anni. Governare un momento storico come questo senza un Assessore alla Sanità è un problema. Intanto da Roma arriva la buona notizia che riguarda le fondazioni liriche, il cui debito è stato azzerato dalla manovra. La notizia è stata salutata come storica dal Maggio Musicale Fiorentino.